Sono Giulia Cazzola, direttore marketing di Fope Gioielli e faccio parte anche della quarta generazione della famiglia fondatrice. In questo momento stiamo facendo la campagna pubblicitaria 2012 per Fope Gioielli. Questo è il nostro ultimo prodotto, si chiama Flexit, è la nostra maglia classica in versione flessibile e estendibile. Lo rende flessibile e unico il fatto che non esiste la chiusura e quindi si può indossare facilmente. Ripeto? Vengo dalla moda per andare a fare il reportage, per tornare a fare la moda con Paolina. I'm from Poland, but I came from New York. La 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 la... The future. Andrò chissà dove, dove mi porta il mio lavoro, che sia la moda o il reportage, fare le fotografie, che è quello che a me piace. I'm going back home for Christmas, for New Year too, and then, I don't know, probably to New York. Who knows? Yeah, no one knows.